Domenica 19 maggio, giornata delle oasi. Quali saranno le osi visitabili e soprattutto l'obiettivo di questa manifestazione? Le oasi aperte sono quelle del WWF, abbiamo il lago di Serranella, l'oasi di Penne, Calanchi di Atri, l'oasi anche di Borrello, delle Cascate del Verde e quella di Martinsicuro. Ma l'evento centrale sarà ad Anversa, l'oasi di Anversa, le gole del Sagittario, dove si parlerà molto dell'importanza delle zone umide, perché questo è l'obiettivo di quest'anno soprattutto del WWF, l'importanza delle zone umide per il mantenimento di una biodiversità che possa aiutare anche tutto il pianeta e la stessa purezza delle acque. L'oasi di Anversa sarà quindi l'evento centrale, ma dobbiamo ricordare che vi è un numero solidale che è già partito, insomma così possono fare messaggi e dare un proprio contributo per la conservazione delle specie abruzzesi che sono in pericolo, in via di estinzione oppure a rischio. Qui abbiamo per esempio come simbolo l'orso marsicano e il numero solidale è 45590, quindi fino a domenica si potrà donare con un messaggio oppure anche dal telefono fisso.